Anche se non sei molto pratico con le sigle e l'elettronica di consumo, posso assicurarti che trovare un alimentatore USB-C compatibile con Macbook non è poi così complicato. Prima di procedere con la guida però ci sono alcuni parametri che devi conoscere per capire se l'alimentatore che vorresti acquistare è adatto al tuo Macbook. Sto parlando del voltaggio, amperaggio e potenza espressa in Watt. Tutti i parametri che puoi reperire facilmente sul tuo vecchio carica batteria alimentatore. In pratica dovrai individuare una dicitura simile a questa, dove Input sta per la tensione in ingresso e Output per la tensione in uscita, entrambe espresse in Volt. Infine la lettera A per Ampere. Potresti trovare anche la potenza in uscita espressa in Watt, indicata con il simbolo W, che è quella che più ti interessa. Senza troppi tecnicismi posso dirti che questo valore è dato dalla formula Watt uguale Volt per Ampere. Ad esempio 20 Volt per 1,5 Ampere sono uguali a 30 Watt. In alternativa, se il caricabatterie non è più in tuo possesso, potresti trovare queste informazioni sulla base del Macbook o sul sito ufficiale Apple, di cui metterò un link in descrizione. Se vuoi acquistare un alimentatore USB-C compatibile con il tuo Macbook, dovrai cercarne uno con la potenza in uscita pari o superiore, poiché, anche se il vattaggio è maggiore, funzionerà comunque. In quest'ultimo caso però, devi sapere che il Notebook non verrà caricato più velocemente, né funzionerà in modo diverso. Ad esempio, se il tuo Macbook necessita di un alimentatore da 30 Watt, dovrai acquistare un caricatore da 30 Watt o con potenza superiore, ad esempio 45 Watt o 60 Watt. Naturalmente, qualora venisse usato un caricabatterie con potenza inferiore, il Macbook non riceverà l'alimentazione sufficiente per essere caricato. Poiché non tutti i cavi di ricarica USB-C sono uguali, dovrai scegliere quello corretto per il tuo nuovo caricatore. Solitamente, i cavi USB-C da 29 o 30 Watt funzionano con la maggior parte degli alimentatori, ma non riescono a fornire energia sufficiente se usati con alimentatori di potenza superiore a 61 Watt. Per questa ragione, dovrai acquistarne uno che supporti una potenza maggiore. Se stai cercando un buon caricatore per Macbook dotato di porta USB-C come i nuovi Macbook e MacBook Air M1, ti consiglio Oki Omnia 90 Watt, che ho avuto modo di testare personalmente. Si tratta di un caricabatteria ad alta velocità molto versatile, che riesce ad erogare fino a 90 Watt di potenza se usata la sola porta USB-C Power Delivery. Ma l'aspetto più interessante è che riusciremo a caricare più dispositivi utilizzando anche le altre porte presenti USB-C e USB-A. Potremo ad esempio ricaricare il Macbook, l'iPhone e un iPad contemporaneamente, anche se in questo caso il connettore principale USB-C erogherà fino a 60 Watt, mentre gli altri due ingressi fino a 12 Watt. Invece, nel caso si utilizzino solo due ingressi USB-C, la porta principale erogherà 60 Watt e quella secondaria 30 Watt. Un altro aspetto interessante è che, nonostante i suoi tre ingressi, riesce ad essere più contenuto del caricabatteria originale Apple da 96 Watt, che è dotato di un solo ingresso USB-C, per l'esattezza il 20% più piccolo. Tutto ciò ha un prezzo decisamente competitivo, se consideriamo che l'alimentatore USB-C da 96 Watt originale Apple costa 85€, rispetto ai circa 50€ di Oki Omnia, al momento con sconto del 30% su Amazon. Per quanto riguarda il cavo USB-C da associare al caricatore, potete optare per qualsiasi cavo USB-C a USB-C 60 Watt o chi. Quelli intrecciati in nylon sono particolarmente resistenti e costano un terzo degli originali.